Alla piazza del Campidoglio, oggi è 6 dicembre 2014, fiaccolata contro le mafie, contro tutte le mafie a Roma, è scoppiato lo scandalo della mafia a Roma, operazione terra di mezzo con gli arresti e con nomi eclatanti a cominciare dall'indagato anche dell'ex sindaco Alemanno e tanti altri nomi. Ecco, vediamo qui la fiaccolata, sta iniziando adesso. Ci sono appunto dei giornalisti, soprattutto turisti e associazioni, un'associazione che si batte appunto, sta organizzando questa manifestazione fiaccolata al Campidoglio contro tutte le mafie, in particolare quella a Roma. Grazie. 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 Grazie.